Comunque raga il trend adesso è darmi del vecchio, per quei capelli bianchi, quei capelli bianchi, qua sono un po' brizzolato di laccio, ma io dico che cazzo ci avrete mai da dire a me che a 31 anni sono ancora un fregno di Cristo, ma sarete meglio voi pelati con la piazzetta, la panza, ma state zitti, fatevi i cazzi vostri, invidiosoni, vostra madre apprezza. Ma poi sapete qual è la cosa incredibile, basta andare sotto la mia ultima foto e ve ne rendete conto da soli che non c'è una sola femmina che mi abbia detto qualcosa, solo i maschi, ma io dico anziché guardare le ragazze, vi preoccupate dei miei capelli, brutti, sfigati, e poi guardate un po' che fregna di donna che ho, ma vieni va, fatti vedere va, fatti vedere da tutti, Sono vecchi, da sti sfigati, dicono che sono vecchio va, questi manco pagando, e poi pure se fosse vecchio è l'uomo più bello del mondo, diglielo va, da sti sfigati, faccio body shaming su ste merda. Allora ragazzi la situazione è la seguente, siccome il tavolo non me lo davano prima delle 22, ho avuto la brillante idea di dire facciamo un aperitivo a Martino, visto che oggi ho pure il suo compleanno, quindi ho aperto una bottiglia di brunare di Montalcino, solo che lei non beve molto, quindi me la sto seccando soltanto io praticamente, e nel mio essere brillo le ho rovisciato un bicchiere di vino addosso, in faccia, sul vestito, e adesso lei vorrebbe darmi una coltellata. Amore, fa vedere come sei sorridente a tutti. No, perché mi ha buttato il vino addosso. Eh ma già l'ho detto, già. Eh, chissà ma se si toglierà macchia. Non è una foto, ti sto continuando a riprendere, sembri tipo ingessata di bamba, tipo non lo so. Ragazzi sono disperata. Puzzò di vino e il vestito è macchiato di vino, di te. Per vedere che cazzo metto su Instagram. Poverina, signorina, che vita, Positano, la villa privata, poverina. Oddio, che vita di merda. Mi ha macchiato il vestito in questa villa a Positano, con la vista mare, con le ballarche. Oddio. Ma va, fa mocca, va.